Per ogni generazione c'è una prescelta che si erge contro i vampiri, i demoni e le forze del male. Lei è la cacciatrice. Bentornati su No Mamma Mazzo, bentornati nella rubrica Fumetti. Oggi ho tra le mani Buffy, stagione 12 a Fumetti, stagione conclusiva della serie canonica televisiva. Ma questo che ho tra le mani è l'ultimo numero, l'ultimo capitolo della serie televisiva che abbiamo iniziato a conoscere e ad amare dal 1996. Canonica perché il suo creatore Joss Whedon l'ha definita tale e in questa ultima stagione ci ha messo le mani per darne una chiusura. Parliamo insieme dopo la sigla. Bentornati su No Mamma Mazzo e bentornati appunto nella rubrica Fumetti. Oggi parliamo di Buffy, stagione 12 a Fumetti, stagione che continua e conclude la serie canonica originale di Buffy sin dai tempi della serie TV. che è andata in onda dal 1996-97 fino al 2003 per poi ripartire, quindi per sette stagioni, per poi ripartire con la stagione 8 a Fumetti qualche anno dopo. Quindi ci sono stati in realtà degli anni di buco che poi sono stati riempiti con la stagione 8 e poi la stagione 9, editi in Italia da edizioni BD e poi sono continuati con la stagione 10, 11 e 12 che non sono mai arrivate in Italia sino all'anno scorso quando Saldapress ha preso in mano le redini della situazione pubblicandole, però non limitandosi appunto a pubblicare le stagioni rimanenti senza ristampare la stagione 8 e la stagione 9 che per quanto ne sappiamo noi potrebbe essere ancora in mano a livello di diritti a edizioni BD quindi potrebbe essere quella una ragione per cui Saldapress non la stampa ma allo stesso tempo Saldapress ha stampato solo le stagioni della serie Ammiraglia senza stampare gli spin-off che sono per esempio la stagione 2 di Angel e Fate che dovrebbe essere ambientata in contemporanea con la stagione 10 di Buffy così come la stagione 1 di Angel e Fate era ambientata in contemporanea con la stagione 9 di Buffy la stagione che si chiama Angel 11, semplicemente Angel 11 che è in contemporanea con la stagione 11 di Buffy che dovrebbero essere degli spin-off che vanno a spiegarci meglio cosa diavolo sta succedendo nel Buffy verso oltre alla serie principale questa stagione 12 che io ho tra le mani è la stagione che risente di più di questa pochezza nella cura della stampa di queste versioni italiane dico pochezza perché siamo, l'ho già detto in altri video, ai livelli di Italia 1 che continuava a trasmettere Buffy magari senza trasmettere lo spin-off Angel di fatto facendoci perdere alcune cose nella continuity però le serie erano abbastanza scollegate tra loro e si poteva fruire tranquillamente della serie madre in questo caso no perché tutti i nodi sono venuti al pettine molti se non tutti i personaggi delle serie spin-off sono riconfluiti nella serie ammiraglia per il gran finale questo gran finale su cui poi parleremo che può essere gradito o meno è comunque monco, è comunque menomato dall'assenza appunto delle storie precedenti che ci dovrebbero far capire come cavolo siamo arrivati a questo prima di cominciare se ancora non l'avete fatto vi chiedo di iscrivervi al mio canale di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che amano Buffy e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questa ultima stagione delle stagioni 10, 11 e 12 edite appunto da Salda Press e se avete avuto la fortuna di avere tra le mani anche la stagione 8 e la stagione 9 parlatemi un po' di cosa ne pensate di queste stagioni a fumetti io come ho già detto in passato mi lamentavo che non avessero continuato la stampa dalla stagione 10 in poi ma devo dire che ora che le ho lette sarei stato più felice se non l'avessi fatto perché mentre le stagioni 8 e 9 a fumetti sono davvero fantastiche e tengono testa alla serie televisiva dalla stagione 10 in poi davvero abbiamo assistito a una discesa verso gli abissi che forse proprio Joss Whedon medesimo ha deciso di fermare con la stagione 12 chiudendo tutto tra l'altro approfitto di questi convenevoli iniziali per ringraziare tutte le persone che di recente hanno scoperto il mio canale proprio grazie ai video su Buffy e che stanno interagendo anche molto animatamente nel senso positivo del termine dopo mesi di distanza dalla pubblicazione dei miei video su Buffy e mi piace che ci sia questa passione che condividiamo tutti che è appunto il mondo di Buffy quindi scusate se magari non rispondo subito ma per rispondervi magari dovrei rivedere il video che io ho pubblicato tempo e tempo fa però apprezzo tantissimo questa scoperta di questi video che vi aiutano appunto a interagire meglio con il Buffy verso molti di voi mi hanno chiesto quando avessi fatto un video sulla stagione 12 di Buffy e la mia risposta è sempre stata la stessa ci sto mettendo parecchio a leggere la stagione 12 perché non mi sta piacendo però a differenza della stagione 10 e della stagione 11 che non mi sono piaciuti per motivi narrativi qua la stagione 12 in realtà a livello narrativo mi è anche piaciuta si è vista la mano di Whedon che è tornata a parlare di sentimenti mentre si combatte è tornata a parlare di parabole familiari vestite diciamo metaforizzate da battaglie ultraterrene che è quello che sa fare meglio Joss Whedon non abbiamo più lo slice of life separato dalle battaglie che abbiamo visto nella stagione 10 che è stata secondo me la peggiore non abbiamo visto come si dice una stagione di segregazione come è stata la stagione 11 che per carità è stata carina ma era davvero un po' monotematica nella stagione 12 si torna a una grande battaglia che coinvolge tantissime cacciatrici anche del futuro tra l'altro e qua andiamo un attimino a capitare nella pecca di questa dodicesima stagione che appunto non è la narrazione ma la struttura di come è stata pubblicata ora ripeto io non so se salda press appunto non ha pubblicato quello che ho detto prima perché non ne ha i diritti perché non ha voluto comprarli eccetera eccetera francamente non mi interessa nemmeno non sono problemi miei fatto sta che pubblicare una cosa del genere secondo me è davvero irresponsabile mi viene da chiedermi ma l'avete letti almeno cioè vi siete accorti che non c'è un filo conduttore che non c'è un filo logico tra una stagione e l'altra vi siete accorti che mancano dei pezzi prima di pubblicarli qualcosa avrete notato dato che vi siete accorti che la stagione 12 di baffi è così corta che per giustificare il prezzo di un tomo ci avete messo un pezzettino di Jais pezzettino insomma sono 100 pagine di Jais di un'avventura di Jais in solitaria tra l'altro un Jais che non ha più 12 anni ma evidentemente ne ha almeno 15 o 16 perché sta andando al liceo non è spiegato se è stato invecchiato con la magia non è spiegato se sono passati degli anni da quando è rinato nel corpo di un dodicenne e soprattutto non è spiegato perché tra questa avventura di Jais in solitaria dove ha 15 anni e la storia principale perché Jais è di nuovo tornato adulto perché diavolo non c'è questa cosa che è nello stesso identico fumetto non è spiegato niente, non è spiegato nelle note, non è spiegato da nessuna parte è tutto così fastidioso da sopportare è fatto malissimo, mi dispiace un sacco perché i disegni sono fantastici la storia è anche bella ma davvero ci si deve aggrappare a qualunque cosa per cercare anche vagamente di capire di che cavolo stanno parlando questo problema è ancora più grande nella storia principale la storia principale che appunto è una run di, non lo so se siamo a pagina 100 e arriviamo a pagina, sì un'altra run di circa 100 pagine quindi circa quanto un fumetto di Dylan Dog quindi la stagione 12 conclusiva di Buffy è per noi come un unico fumetto di 96 pagine nulla di che però anche qui non si capisce nulla perché si entra a storia già cominciata scopriamo che c'è questo fratello, gemello, vampirizzato della cacciatrice del futuro Frey che sta portando avanti un apocalisse però lo sappiamo senza sapere chi è Frey Frey è una cacciatrice del futuro, un altro personaggio che è scritto da Joss Whedon che però non è, nel senso io so che esiste perché sono un Buffy maniaco ma non sapevo assolutamente che fosse necessario conoscere quella storia per poter leggerla stagione 12 quindi so dell'esistenza di Frey, so che a un certo punto si sono anche conosciuti non so se forse anche nelle stagioni 9 o qualcosa del genere ma non è spiegato come la cosa è collegata non c'è neanche una spiegazione iniziale semplicemente siamo nel vivo della storia e nel vivo della storia i nostri protagonisti stanno già discutendo di questa battaglia in corso tutti bevendo tè o caffè così come se fossimo di nuovo in France e dal nulla arrivano anche due grossi calibri della serie spin-off che sono Angel e Illyria perché Fate era già presente in quel contesto Illyria e Fate sono una coppia adesso e questa cosa la possiamo dedurre dalla storia che va avanti ma non sappiamo quando è successo, ovviamente potrebbe essere successo in Angel stagione 11 o in Angel e Fate stagione 2 noi non lo sappiamo, lo possiamo solo dedurre e sappiamo che anche che Illyria e Fred convivono nello stesso corpo che Fred per qualche ragione è rispuntata nel corpo di Illyria nonostante la sua anima fosse stata arsa dal fuoco della risurrezione di Illyria nella stagione 5 di Angel quindi che non poteva nemmeno in teoria essere riportata in vita ma come sappiamo le cose impossibili in Buffy sono già successe vedi la nascita di Connor, la presenza di Dawn eccetera eccetera però tutto questo noi non lo sappiamo perché non abbiamo lo spin-off di Angel su queste pagine ecco io se salda pressa, se non volevi fare un fumetto a parte su Angel stagione 11 o Angel e Fate stagione 2 e Angel stagione 11 potevi metterlo quantomeno al posto della storia di Buffy scusate, della storia di Giles in solitaria che secondo me nulla dà in più alla storia principale è solo un riempitivo per poter vendere un volume da 200 pagine a 29,90€ però se dovevi farlo almeno prendi la storia che si collega alla principale ripeto, leggi listi cazzo di fumetti salda pressa non pubblicare cose a caso probabilmente la storia di Giles sarà costata meno però che cazzo non si capisce niente così sono davvero una tristezza perché comunque già stiamo dicendo addio a una cosa che ci ha accompagnato per tantissimi anni e che amiamo perché per arrivare a leggere i fumetti di un telefilm degli anni 90 vuol dire amare questo prodotto già il finale è davvero sottotono perché si è andate a pescare persino la storia della cacciatrice nel futuro perché non si sapeva più come concludere la serie e già le stagioni 10 e 11 sono state di una tristezza tale dato che non sono stati scritti da Weedon per giunta tutto questo infiocchettato in una maniera così irresponsabile sono davvero arrabbiato arrabbiato per un addio così così ingiusto non è giusto non è assolutamente giusto pubblicare una cosa del genere non è rispettoso nei confronti dei fan nel modo più assoluto si salva questa stagione 12 semplicemente da i saluti finali i commiati finali il commiato tra Buffy e Fate che poi quando Buffy e Fate hanno smesso di nuovo di essere una coppia e sono amici è successo nella stagione 11 perché io non me lo ricordo e soprattutto e qua mi ricollego sempre a livello narrativo dalla stagione 10 alla stagione 11 c'è stato il libro Vampire che si è completamente perso non c'è più stata sta cosa dalla stagione 11 alla stagione 12 c'è stato il discorso del concilio il nuovo concilio degli osservatori che prima era di Doffrin e poi Doffrin è stato sconfitto che era il nemico della stagione 11 e poi è stato generato un nuovo concilio con anche come si chiama anche il secondo ragazzo di Buffy quello Raleigh c'era anche Raleigh come rappresentante dell'esercito c'era Buffy c'era Giles dove cazzo è finito? non se ne è parlato minimamente nella stagione 12 non c'è il minimo accenno a tutto ciò perché? non ha senso perché farlo se poi non ti ci colleghi neanche minimamente neanche come aiuto e anche questi appunto questi quattro commiati che sono stati fatti appunto tra Angel scusate tra Spike e Buffy che si sono abbracciati restano l'una per l'altro nonostante appunto non sono più insieme ma ci saranno sempre l'uno per l'altro quindi non saranno mai da soli e un ultimo abbraccio tra Angel e Buffy dove Angel non è più il grande amore di Buffy ma è comunque una persona importante della sua vita che ha appena perso il suo amore che è Illyria e quindi un abbraccio un po' sottotono per la storia Angel e Buffy per quanto io sia felice di vedere che la vicenda di Buffy si concluda con Buffy che non sta più insieme a una persona che non può garantirle tra virgolette un futuro che non può crescere con lei dato che si parla di non morti che hanno perennemente quella età mentre Buffy invecchierebbe quindi questa cosa mi piace anche ciò nonostante questo finale a taralluce e vino con Angel e Spike qua sulla staccionata Dawn e Xander che vi ricordo sono diventati una coppia nei fumetti adesso hanno avuto anche una bambina che si chiama Joyce cosa molto carina però francamente irrilevante Willow e Fate così che si mangiano degli stuzzichini e Jais che gioca a cosa a un cazzo si chiama sto gioco vabbè come cacchio si chiama con Andrew che anche lui è rispuntato dal nulla senza troppi motivi ripeto secondo me è stato un ultimo tentativo di Whedon di chiudere il cerchio di tutto perché la stagione stava andando alla deriva c'è riuscito però qua nell'edizione italiana mancano davvero troppi elementi perché possa essere considerata una stagione a tutti gli effetti non è una stagione non lo è non lo è assolutamente è stata messa insieme con lo sputo e non sono uno che strappa i fumetti e probabilmente non riuscirei perché è molto forte il cartonato però davvero fa schifo ok mi dispiace perché la chiusura di questa stagione fumetti per me significa decanonicizzare i fumetti cioè è diventata così brutta che a questo punto non non gli do più il valore che hanno è così brutto tutto ciò che a questo punto per me Buffy finisce nella nella stagione 7 con con la serie televisiva a questo punto Angel finisce con la stagione 5 nella stagione televisiva ed è un peccato perché comunque ci sono state delle perle molto carine anche nella stagione fumetti after the fall che ci ha dato la battaglia tra i demoni che è stata solo chiusa con un cliffhanger nella serie televisiva finale è un peccato è un peccato però appunto Buffy la serie televisiva sarà sempre lì ad aspettarmi qualora io voglia ritornare in quelle atmosfere è inutile andare avanti portare avanti all'infinito una serie quando non ha più nulla da dire come questo è il caso semplicemente se si ha nostalgia di quelle emozioni si prende il telecomando e la serie guarda alla capo cosa che io farò anzi semmai farò un watch party vi terrò aggiornati così ce la riguarderemo tutti assieme se siete dei dei Buffy fan duri e puri avrete i dvd come me altrimenti se avete disney plus Buffy e Angel al momento sono su disney plus altrimenti ci sarà occasione comunque di vederla tutti insieme magari mettendoci d'accordo avevo già iniziato a farlo quando Buffy era su su prime video però sono comunque sette stagioni e davvero tanto da da vedere fatemi sapere voi cosa ne pensate di tutto questo io sono davvero molto deluso ma sono contento che ho guadagnato tra i miei iscritti altri appassionati di Buffy come me quindi fatemi sapere se non so magari mandare avanti la rubrica Buffy in qualche altro modo non lo so magari recensendo gli episodi più belli qualcosa ci verrà in mente per tenere viva questa playlist io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine di questo video con l'invito con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video che a breve sicuramente non sarà di Buffy ma spero vogliate comunque seguire il mio canale per le altre rubriche grazie ancora e arrivederci a presto